Grazie, come promesso vi ho messo il fine serie di brochure, quindi sono delle ultime possibilità da prendere per quanto riguarda viso e antietà. Allora, innanzitutto iniziano oggi, quindi dal 4 luglio, terminano il 13 luglio, quindi diciamo che abbiamo un bel po' per poter scegliere. Vabbè, pochi giorni, va. Per quanto riguarda viso e antietà abbiamo la linea White Botanical, che è quella linea antimacchia, quindi è una linea che comunque mi avevano richiesto tempo fa. Speriamo che la rivolgo io, insomma. Allora, White Botanical, abbiamo la maschera da notte illuminante antimacchia 14,95 e il correttore antimacchia 14,95 anche. Per 14 ml. Poi abbiamo il trattamento rimpolpante da notte, rughe e compattezza della linea Serum Vegetal e anche il filler mirato occhi e labbra 11,95, che è questo. Poi abbiamo sempre trattamenti viso, speciale antienquinamento, abbiamo il trattamento ristrutturante da giorno per pedi da normali ammiste, la linea X-S, 14,95, la Sink Care, Slipping Care. Che è la crema da notte, 18,95. Poi abbiamo la maschera flash ossigenante, questa è ottima, si apre con velo di questa maschera e vi dona ossigenazione allo viso, ve la rinfresca, vi fa una pelle molto più riposata. E costo 11,95. Poi sempre della stessa linea di X-S, abbiamo l'UV Beauty Shield, che è una crema idratante multiprotezione, fattore di protezione 50, 30 ml, 17,95. Poi abbiamo, per quanto riguarda viso specifico, l'acqua micellare Sensitive Camomile, però questa è solo acqua micellare. E 390 ml, 11,95, mentre quella da 200 ml, 6,95. Poi abbiamo la maschera gel purificante con menta piperita bio, la 30 ml, questa è ottima, per le miste, in grassa. Ne applicate un po' sulla pelle, appunto, grassa, ve la rinfresca, proprio veramente bene perché contiene menta piperita bio e vi dona luminosità anche e opacizzazione allo viso. Poi costa pochissimo, tra i 95 è stato a posto. Poi abbiamo anche la maschera mostranitiva, 75,95, 5,95. Questa è ottima anche per chi ha la pelle sensibile, quindi per chi ha una pelle molto bellica, che si arrossa facilmente, è meglio, appunto, utilizzare una cosa del genere, tipo questa maschera, che è veramente stupenda. Infatti ve la consiglio perché, insomma, ve lo acquistare, soprattutto se avete pelle sensibile. Fai il messaggio della... del wifi, vabbè. Poi abbiamo invece, per quanto riguarda Makeup Book, che hanno messo sconto al 60%, per quanto riguarda lo stilo Waterproof, 7,95. Tonità Dalila, oppure Hortensia, molto carina. Poi abbiamo l'ombretto colore vegetale, 4,50 euro, magnolia, matte, brun escorse, e rose camelia, bello rose camelia, matte se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque, 4,50 euro. Poi abbiamo eyeliner pennarello, punta in feltro, nera, 6,95. E la maschera Intense Metamorphose, Waterproof, lume, lunghezza e curvatura, sempre nero, 12,95. Poi abbiamo, e per quanto riguarda il Makeup, la maschera solvente con Kengo Green, che questa non l'ho mai provata, però, adesso che è 4,95, perché stava sempre a 10 euro, la prenderò. Praticamente è una maschera che, non una maschera, sì, una maschera, dice apri con uno stretto sul lunghe, lascia in posto 2-3 minuti, stendi, e mi assaggia con le dita ed elimina il prodotto con un dischetto di cotone. Praticamente questo elimina lo smalto. Cioè, anziché avere quello liquido, abbiamo quello in crema, va. Poi abbiamo smalto Kugrin, blu Turkin, 2 euro, manco per fallo. Poi abbiamo, non lo so, non lo so dal colore, ma a me mi piace o non mi piace, sembra un blu tendente al velaceo. Poi vedo su Google. Antiochiaia, correttore ad alta coprenza illuminante, 9,95. Ah, quello liquido. Abbiamo tonalità, Dore 2,75, Brun 500 e Brun 700. Poi abbiamo quello tecso cremosa, quindi stick, 5,95, però solamente due tonalità, il Brun 500 e il Brun 700. No, Brun 550. Cioè, questi in teoria potrebbero forse aiutarci quando ci dobbiamo fare il contouring. Non lo so. Può essere una via di mezzo. Poi abbiamo il rossetto Rouge Vertice, 8,95. Invece, per quanto riguarda capelli riparati, abbiamo due maschere, questa riparazione da 35 ml, 2,95. Penso che li prenderò perché sono delle maschere veramente belle. Cioè, agiscono molto bene su un capello crespo, ribello, disidratato e da riparare. Poi invece abbiamo lo shampoo nutrizione, 3,95. La maschera ristrutturante da 35 ml, 2,95. L'olio botanico, 11,95. E l'olio botanico ricco, 9,95. Con la maschera questa piccola, pure buona. Il cupo idrata tantissimi capelli, li ammorbidisce, li distrita, li aiuta bene a pettinarli. Si la aveva tempo fa. Poi abbiamo ancora trattamenti per capelli, lo shampoo per capelli lisci, quindi shampoo crema, 3,95. Il fluido lisciante, 5,95. Non mi ricordo se ho questo per capelli lisci, ce l'ho. Non mi ricordo. Però il fluido lisciante ce l'ho. È un ottimo prodotto. Infatti penso di fare un real con questo prodotto, che io già l'avevo fatto questo real, ma lo devo pubblicare nel mio profilo della pagina. Cremo modello anti-ricci, 5,95. C'è sia anche il balsamo, quindi 3,95, e anche lo shampoo 3,95. Quello col pack vecchio, però. Ancora trattamenti, abbiamo la maschera sebo-assorbente pre-shampoo purezza, 2,50. Che è sempre... come? Ah, pre-shampoo, sì, sì. Poi abbiamo un gommaggio ossigenante 5,95. Ah, ok, l'abbiamo in due versioni, sia da 150 ml, 5,95, quella da 35 ml, 2,50. Poi abbiamo anche la maschera in colore, per il colore, 2 in 1, 5,95. E il siero fortificante, per chi ha caduto di capelli, è ottimo, 3,95. C'è anche io, mi ci trovo bene, ancora non l'ho finito. Poi abbiamo creme mani, olive petite grain, e fior di rota e salvia, 3,50. Balsamo labbra colorato mango, 1,95. E gel detergenti per mani, senza resciaccio, 2,95, 200 ml. Poi abbiamo un superset, vabbè, un superset per noi che possiamo prendere e poi lo possiamo venderlo, lo testiamo, insomma. In album 11 praticamente vi danno tutte queste novità. Questo è un progetto che ho messo io 80 euro, cioè, però poi magari sono a livello separatamente. Comunque, poi, in teoria, allora, in teoria in questo set ci sono tutti i prodotti nuovi che troviamo nell'album 11, quindi, tra due album. Io lo so che è troppo presto, però onestamente, prenderli e magari metterli di lato, testarli, oppure tenerli da parte per poter rivenderli, è sempre già una cosa, poterli rivendere anche adesso è già una cosa positiva. Allora, in teoria cosa contiene? Come sapete uscirà la nuova linea, che più che nuova, già c'era un tempo, poi l'hanno tolta, non so perché. C'erano molti trattamenti di questa linea, c'erano anche i shampoo, quindi spero che faranno anche lo shampoo. E si tratta della linea l'avena e il grano saraceno. Prima era solo avena, ora hanno incluso anche il grano saraceno. E questa linea va bene per chi ha la pelle sensibile, quindi, tipo, chi ha arrossamenti, dermatite, perché è una linea veramente priva di profumo, ma che aiuta la pelle alla sua naturale ripristinazione, riequilibriarla comunque. Allora, cosa vedremo? Vedremo il latte per il corpo, la crema per le mani, poi abbiamo il bagnoschiuma, che a me me l'hanno ordinato, perché mi pare che facendo un cento e qualcosa, magari, che poi mi arriverà un altro pacco di scevoli dell'album 8, mi arriverà questo, il bagnoschiuma, infatti lo odoreremo insieme, perché lo dovevo prendere, però lo posso odorare, perché in teoria me l'hanno ordinato, avevo messo le foto su Whatsapp. A tutti hanno curiosito questa linea, che è bello, lì qua, lì là. Non so se mi arriverà pure la crema per il corpo, ma lo so, è la crema a mani, vediamo. Poi ci sarà il sapone per le mani, il sapone, questo, per il corpo. Poi usciranno questi due ombretti mono, molto carini. Ombretto numero 29, Sienne Powder, e ombretto 28, Solaire Ambre, molto carini. Sono dei colori comunque carini, anche da abbinarli insieme. Poi uscirà anche uno smalto 39 Tonka Intense. Insomma, il smalto non mi piace molto. Però, rossetto rouge elixir satinato, 25 terrogrè. Diciamo che tutti e quattro tipo uno li potrebbe vendere insieme. E insomma, per vedere un po'. E poi uscirà, che bello, sono troppo felice. Un trattamento idratante intenso, crema giorno-notte e maschera notte. Cioè, è tutta inclusa, quindi si può utilizzare da giorno, da notte e fa anche una versione maschera. Molto carina, non lo so, questa però è valida dal 4 al 17 luglio. Non lo so, ci penserò per questo set, perché è carina. Va bene, io vi saluto, al prossimo video, ciao! Ciao! Grazie a tutti.